Non ci fosse la legge, noi non potremmo sapere, sappiamo i nostri diritti, o se dobbiamo cacere. No, no, ma non staranno litigare, è solo per... Stavo a parlare. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti. Noi spesso parliamo mentre passa la sigla. E però ci sono anche poi dei fuori onda che ogni tanto... Devono saltar fuori. Benvenuti a Orangelo Avvocato, da Antonio Costa Barbeggio a Mario Bastetti. Ecco, stavo appunto solo dicendo che, poiché la settimana scorsa hanno parlato di un paio di argomenti, io avevo già sostanzialmente... Aveva già pronto l'argomento di questa settimana, invece io ho dovuto... Lui è più fresco... Cercare, trovare qualcosa... E per non parlare anche, perché spesso abbiamo delle richieste in materia di condominio, così però... Diventiamo Orangelo Avvocato nell'ambito del condominio, invece cerchiamo di ampliare un po' gli argomenti. Con il condominio di materie di separazione di diritto di famiglia credo che potremmo fare dieci punti a te. Però, insomma, alcune volte ci prendiamo la libertà di proporre un argomento, come in questo caso, no? Proporre un argomento che crediamo sia di interesse. Ti riguarda? Ma riguarda le clausole vessatorie. E i consumatori. Voi direte, cari consumatori, ascoltatori, barra ascoltatori, che poi tutti siamo consumatori, no? Anche il professionista ha un po' quando va a comprare il pale, anche l'imprenditore è un consumatore. Quando io consumo qualcosa ho la consulenza dell'Avvocato Bastetti, che è bravissima in questa materia. Voi direte, beh, abbiamo già parlato di clausole vessatorie in passato, abbiamo già parlato del codice del consumo. È vero, però, perché riportiamo l'argomento? Perché è intervenuta una novità, non recentissima, però abbastanza recente. Si parla di marzo 2012, per cui, insomma, voglio dire. Allora, praticamente abbiamo registrato, no? In quest'anno degli interventi da parte del governo per promuovere la concorrenza. Questo a favore del consumatore, per tendere la tendenza, la finalità è quella di abbassare, ovviamente, i prezzi. Ecco, il decreto legislativo 1-2012, convertito in legge 27-2012 di marzo, di quel 4 marzo, se non ricordo male, all'articolo 5, introduce una nuova disposizione del codice del consumo, per quello che ne parliamo. L'articolo 37 bis. Se voi ricorderete, abbiamo parlato del codice del consumo, l'azione inibitoria, le clausole vessatorie, eccetera, però di questo non abbiamo parlato, perché è appena iniziato. E' recente. Ecco, questa disposizione è volta a dare un'ulteriore protezione al contraente debole, al consumatore, posto dinanzi a condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dal professionista. Che spesso queste condizioni di contratto, chiamiamole vessatorie, ma sono vessatorie sul momento in cui vengono accertate, al di là di quell'elenco che dicevamo, tassativo, eccetera, eccetera. Ecco, alcune volte queste clausole vessatorie sono vincolanti e limitano proprio le azioni dei consumatori. Allora, finora la protezione che operava in via generale era quella dell'azione inibitoria dell'articolo 37 riservata alle associazioni dei consumatori. Allora, ricordiamo solo una, facciamo solo una premessa, quali sono le clausole vessatorie? L'articolo 33 del codice del consumo definisce vessatorie e quelle clausole inserite nel contratto stipulato, ricordiamo tra un consumatore e un professionista, che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti appunto dal contratto. Queste clausole, dice il legislatore, sia le clausole tipo, sia quelle riconosciute dal giudice, sia quelle in seguito all'azione inibitoria, nel momento in cui viene accertato, come detto, dal giudice, dalla legge oppure da quest'azione inibitoria delle associazioni di categoria, dei consumatori, in questo caso quando viene riconosciuta vessatoria la clausola è nulla, non è nulla il contratto, solo questa clausola, perché sennò sarebbe potenzialmente più dannoso per il consumatore fosse nulla il contratto. Allora, ritorniamo invece alla novità, l'articolo 37 di recente introduzione disciplina, come abbiamo detto, un nuovo strumento di tutela, un'azione, una protezione non giurisdizionale, non si svolge davanti al giudice, ma è un'azione amministrativa. In base a questa norma, infatti, è riconosciuto un diritto all'Agicom, l'autorità garante della concorrenza del mercato, alcune volte queste abbreviazioni sfugge poi il nome, l'antitrust in buona sostanza, di poter intervenire su istanza di un privato, per il privato o anche addirittura il professionista, ma poi vediamo, per determinare se una clausola è vessatoria o meno. Ecco, pertanto, nel momento in cui un professionista dovesse redigere per disporre un contratto, a questo punto sia l'associazione dei consumatori sia un privato può fare una segnalazione all'Agicom, addirittura lei stessa può intervenire di sua iniziativa al fine di determinare o meno l'avessatorietà di una clausola. Una sorta di richiesta, una sorta di, come dire, deleghiamo, non è una causa. È una causa, è un procedimento amministrativo all'interno dell'Agicom. Faccio una segnalazione, tu, che mi dovresti appunto super tutelare, nel senso che puoi intervenire. Puoi intervenire, adesso non entriamo nello specifico di come si svolge la procedura. Però in questa procedura c'è l'intervento, ovviamente, della parte interessata, cioè del professionista che ha fatto il contratto, quello che fa eventualmente la segnalazione, sono chiesti anche pareri delle associazioni, dei consumatori, delle associazioni in categorie. Ecco, però, diciamo che l'intervento dell'Agicom, come dire, che determina l'avessatorietà o meno di una clausola contrattuale, non può essere messo lì così, cioè ci vuole un deterrente al fine di imporre al professionista di non utilizzare più per il futuro questa clausola. Questo termine, se non ricordo male, ma qui semmai lo approfondiamo, non è il professionista proprio come lo intendiamo noi, cioè il... Non l'avvocato, geometra... Mi pare una traduzione alla francese di professionello, non so come si dice. Chi esercita una certa attività economica... Quindi si avvicina un po' all'imprenditore, no? Sì, è praticamente l'imprenditore, praticamente è il non privato, chi non... Il non privato ha ragione, c'è la definizione negativa. Negativa. La cosa positiva è che questa autorità ha il potere di applicare delle sanzioni nel momento in cui il professionista, come dire, non ascolta i dettami dell'autorità, inserisce ugualmente nonostante l'avessero dettorialità accertata e tra l'altro questa sanzione amministrativa va da 2.000... Sì, poi ci sono vari case, 40.000, 50.000 euro. E per ultimo voglio dire, e poi lascio il tempo un po' tirando, ma faccio velocissimo, è anche interessante che, cioè ricordare che l'intervento, la segnalazione alla Gcom può essere anche lo stesso professionista che prima di predisporre un contratto e inserire delle clausole nel dubbio dice, faccio io la segnalazione alla Gcom, chiedo se questa clausola può essere considerata vessatoria o meno, se mi dice che va bene, la inserisco. Questa è una cosa, tutto sommato, voglio dire. Mi ricorda il meccanismo, soprattutto negli anni 40, 50, dei produttori di cinema americani, cineasti americani, che sottoponevano alla motion picture, cioè sostanzialmente all'organismo di censura, e le sceneggiature. Preventivamente. Così almeno dicono, rischio, le taglie che rovinano poi la... Sì, poi vabbè, ma qui andremo... Dovremmo fare un'altra rubrica, io chiederò al nostro editore, la Pirenei, e se per caso mi ospita per un'altra rubrica, non posso... Io vengo come ascoltatore, però non sono molto come lei. Il mio unico ascoltatore. Dunque, siamo arrivati a nove minuti e quindi la questione del mio argomento è già pronto, ma tanto devo fare solo un piccolo riassunto, perché circa un mese e mezzo fa ormai, organi locali, di stampa in particolare, il Corriere di Novara, era uscito con questo titolo, rimozione forzata delle auto fuori dagli spazi destinati al maggiore e pagamento di 48 euro per poter riavere l'autovettura. Questa cosa aveva scatenato delle reazioni, almeno in un primo momento. Poi la situazione si è un po' calmierata, tant'è che non erano apparsi, che io sappia, ulteriori articoli su questa situazione. Forse ricordando il fatto che appunto negli anni precedenti, quando ancora esisteva la funzione di difensore civico, io mi ero per quattro anni, insomma, ero stato appunto nominato difensore civico comunale, ogni tanto qualcuno mi chiede, ma allora cosa possiamo fare? Perché evidentemente in parte questa situazione della rimozione forzata da parte di un'azienda privata su incarico, adesso qui nell'ospedale, ma potrebbe anche essere di un condominio, di situazioni comunque anche diverse, è andata avanti. E allora, come sempre, io cerco di fare uno studio che sia attento, equanime, cioè non devo difendere nessuna categoria o nessuna idea. E infatti la questione, è venuta proprio fuori questo studio che ho riassunto in una nota sempre sulla nostra pagina di Ho Ragione Avvocato su Facebook, che ho intitolato la rimozione forzosa delle auto nei parcheggi privati. Ecco, come dire, l'occasione è stata data da quel fatto. Ma possiamo dire che in una situazione di questo genere, cioè quando un privato voglia, mediante una società di solito di vigilanza privata, rimuovere qualunque automezzo posteggiato fuori dagli spazi consentiti in uno spazio privato, anche in un condominio, ha determinato due orientamenti. Uno sostanzialmente civilistico, che c'è stata una sentenza di Cassazione del 2007 e che ha confermato una sentenza di giudice di pace, che sostanzialmente dice, è possibile questo, la sentenza di Cassazione ha fatto applicazione del principio di autotutela o difesa privata del possesso e del principio stabilito dal 2043, per il quale colui che col proprio fatto doloso o colposo cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcimento. ha ritenuto che il possessore molestato nel possesso possa personalmente o a mezzo di un terzo a cui abbia affidato all'uopo il relativo incarico, cioè in questo caso la società di rimozione delle auto, far cessare la molestia in atto rimuovendo la cosa con la quale l'offesa al possesso viene esercitata e abbia altresì diritto al rimborso delle spese dovute al terzo per la rimozione, in quanto causate dal fatto illecito del molestatore. Peccato che un giudice penale, il GIP di Bologna, Andrea Santucci, nel maggio del 2010, su richiesta di un pubblico ministero, che era Antonella Scandellari, aveva invece agito in maniera completamente differente, perché aveva messo in parecchi condomini della zona di Bologna vicino anche i per cop e anche situazioni di stazioni di servizio e così via, aveva messo sotto sequestro 500 cartelli e due carri attrezzi di una nota società privata incaricata della rimozione di autoveicoli per conto di privati, previ apposita stipula di convenzione. E c'erano violazioni penali contestate tipo, vabbè, qui forse non so che cosa c'era evidentemente, l'associazione per delinquere, vabbè, finalizzata all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, usurpazione di pubbliche funzioni e addirittura l'ipotesi di estorsione ove fosse richiesto agli automobilisti il pagamento di un centinaio di euro per riottenere l'autovettura. Quindi stiamo veramente su posizioni contrapposte. È logico che purtroppo noi possiamo conoscere le sentenze, ma tutti gli atti e tutte le situazioni particolari non le conosciamo. Però sicuramente questo aveva tra l'altro innescato un meccanismo di denunce e querelle da parte degli automobilisti e sarebbe interessante sapere poi come è andata a finire questa situazione perché comunque abbiamo due tipi di pronunce e due tipi di tutele, una applicata dal giudice civile e una applicata dal giudice penale. Quale sia quella giusta che poi alla fine il lettore, l'ascoltatore o chi mi scrive chiede ma qual è... Dice beh poi in sostanza qual è... Noi ci limitiamo quando non c'è giurisprudenza consolidata a fotografare le situazioni nella speranza che presto in qualche modo si arrivi a una determinazione più, come dire, univoca dei fatti di cui abbiamo parlato. Per il momento è tutto e ringraziamo per l'ascolto. Alla prossima puntata, arrivederci a tutti. Buona giornata. Ma cosa dice la legge? Vogliamo forse imparare Quando nel mondo dei giusti Ci metteremo alla fine Grazie!